Benvenuti, cari follower. Preparatevi quindi al ritorno della neve tra anni e a quote molto basse. Ma prima di entrare nei dettagli, ho una semplice richiesta da parte tua. Spero che tutti coloro che guardano questo video premano il pulsante Mi piace. Abbiamo una sfida. Vogliamo che questo video raggiunga più di 2000 Mi piace il prima possibile. Grazie. Quindi, come ti ho confermato nel video precedente, continuano gli aggiornamenti dal Centro Meteorologico Europeo, che prevede forti tempeste di neve in ingresso nel nord Italia a partire da lunedì e martedì 4 e 5 dicembre 2023. Porterà con sé abbondanti nevicate che interesseranno quasi tutte le regioni settentrionali d'Italia, da est a ovest, con una forte ondata di freddo ghelate, forti venti e un clima invernale per eccellenza dovuto all'arrivo di aria molto fredda. Massa proveniente dal nord Europa. Di conseguenza, con la disponibilità di elevata umidità e buon raffreddamento, la neve cadrà in pianura e a quote molto basse in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, in grandi quantità, che vanno dai 10 agli 80 centimetri. Maggiori dettagli restate sintonizzati più avanti quando il periodo si avvicina. Altro.